preghiera a sant'antonio di padova per ottenere qualche grazia speciale nel nome del padre del figlio dello spirito santo amen ammirabile sant'antonio glorioso per fama di miracoli e per predilezione di Gesù venuto in sembianze di bambino a riposare tra le tue braccia ottieni dalla sua bontà la grazia che desidero ardentemente nell'interno del mio cuore tu così pietoso verso i miseri peccatori non badare ai miei demeriti ma alla gloria di Dio che sarà ancora una volta esaltata da te e alla mia salvezza eterna non disgiunta dalla richiesta che ora sollecito vivamente a questo punto si dica la grazia che si ama il cuore della mia gratitudine ti sia pegno la mia carità verso i bisognosi con i quali per grazia di Gesù redentore e per la tua intercessione mi sia dato entrare nel regno del regno dei cieli amen e ringraziamento a sant'antonio di padova glorioso taumaturgo padre dei poveri tu che hai prodigiosamente scoperto il cuore di un avaro immerso nel loro per il grande dono ottenuto di avere il tuo cuore sempre rivolto alle miserie e agli infelici tu che offriste al Signore le mie suppliche e per la tua intercessione sono state saudite gradisci in segno della mia riconoscenza l'offerta che depongo ai tuoi piedi in soccorso della sventura giova ai sofferenti come me accorri in aiuti di tutti per soccorrerci nelle necessità temporali ma soprattutto in quelle spirituali adesso nell'ora della nostra morte amen nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amen non 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 Grazie a tutti.